L'associazione Diamoci una Zampa di Capaccio Pestum invita la cittadinanza a partecipare alla raccolta firme per la realizzazione di un rifugio sanitario. Nella nota stampa viene spiegato, uniti per il bene comune per dare un segnale di svolta verso una problematica, il rendeggismo diventata piega sociale. Per partecipare alla raccolta di firme per realizzare un rifugio sanitario comunale basterà porre una firma con i dati anagrafici e il numero del documento di riconoscimento. I modelli possono essere trovati in tutte le contrate, tutte le attività commerciali del comune di Capaccio Pestum e nelle associazioni presenti sul territorio. Infine avvisano che sarà pubblicato un calendario con date e luogo dove saranno allestiti gazebo per firmare la petizione.